Ciao a tutti amici Rosso Blu, amici del Crotone, siamo in Serie A, sono le 3.24, io ancora stento a crederci, sto rivedendo tutti i vostri tag, sto rivedendo tutto ragazzi, perché io nella confusione, nel festeggiare, veramente ragazzi, sono contentissimo, godo come un porco, godo, godo, godo per questa bellissima promozione in Serie A, che dire, ringrazio il mister Stroppa, ringrazio il presidente Gianni Brenna, ringrazio la squadra, ringrazio tutti i ragazzi, tutti i ragazzi che ci hanno fatto godere e che il prossimo anno ci faranno vivere una stagione, un'altra stagione in Serie A, dopo le due, una di Uric e una di Nicola, che abbiamo assaggiato in Serie A. Detto questo ragazzi, io vi lascio quel video dei festeggiamenti della sera, e niente, vi mando un bacio, e sempre Forza Crotone ragazzi, non molliamo mai! ragazzi, ce l'abbiamo fatta, dai! 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 ragazzi, non mi albo, e tutti amici! ok via, Grazie a tutti! 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 Grazie a tutti!